Rieccomi a Marina di Lizzano, provincia di Taranto, ma io voglio precisare alcune cose. Questi servizi di denuncia sul degrado hanno la funzione di difendere il territorio di Lizzano e di difendere i lizzanesi, i quali hanno diritto a vivere in una condizione di civiltà e non di degrado, di abbandono assoluto. Quindi non c'è nessun attacco alla comunità lizzanese, anzi, lo sottolineo, è una tutela. Una ventina di giorni fa siamo stati qui e vi abbiamo mostrato lo stato di decozione assoluta. Il degrado, la sporcizia, il servizio di pulizia degli arenili della Marina che è davvero assai carente, è un servizio ultra scadente e pensavamo che questa denuncia potesse in un certo qual modo svegliare, tra virgolette, gli amministratori, il sindaco Doria, il vice sindaco Morelli, ma evidentemente non è servito a nulla. Abbiamo voluto dare il tempo perché potessero appunto migliorare nella loro azione amministrativa, ma nulla. La schifezza, il porcile c'era e il porcile c'è. Non vi scandalizzate di questi termini abbastanza duri? Io lo dico perché amo la comunità di Lizzano e la comunità di Lizzano è degna di essere amministrata diversamente. Guardate alle mie spalle cosa c'è qui. Sembra una discarica, anzi lo è, una discarica a cielo aperto. Guardate poi tutte le buste, altri rifiuti vari, cartacce presenti appunto sulla renile. Intanto c'è da dire che quando passa quella sorta di trattore, quel mezzo che appunto interviene, opera sulla sabbia e toglie il grosso, diciamo così, e poi a terra rimangono i rifiuti, come si vede dalle foto, e questi rifiuti una volta venivano appunto rimossi dai lavoratori socialmente utili, ora questo non avviene più e quindi quelle buste, quei rifiuti rimangono lì, nonostante il trattore sia passato, quando passa poi il trattore. Ma vi voglio far vedere cosa accade, come è sporca la Marina di Lizzano alle nove del mattino. Quindi non stiamo parlando di mezzogiorno luna, quando il cittadino magari sporcaccione ha buttato i rifiuti. Stiamo parlando alle nove, la spiaggia è praticamente vuota, c'è poca gente ancora, significa che la pulizia non è avvenuta. Capito sindaco Doria? Capito vice sindaco Morelli? Spalancate i padiglioni auricolari, spalancateli bene, questo è un porcile, è un porcile. Lizzano e lizzanesi non meritano questa condizione. Dal ciglio della strada, e quindi così, già l'immagine è terribile perché il turista passa, ma anche il semplice abitante e vede, lo ripeto, quel porcile, ci spostiamo, vedete, proprio sulla spiaggia, sulla renile, guardate, qui buste e quant'altro bicchieri, non si capisce. Guardate, addirittura, delle buste che vengono, che sono conficcate lì, proprio chissà da quanto tempo. Allora, il discorso è questo, passa, diciamo così, il mezzo, il trattore, ma molte volte, quasi sempre, ci passa sopra, passa sopra questi rifiuti che, lo ripeto, un tempo erano i socialmente utili a togliere. Quindi il trattore faceva, diciamo così, il grosso e poi il singolo, i lavoratori socialmente utili li rimuovevano. Sindaco, vice sindaco Morelli, signori dell'amministrazione, guardate, ci sono certamente gli civili che buttano le carte e le buste, mica cadono dal cielo. E voi cosa fate per rimuoverli? Boh! Mi pare, mi pare, che il servizio, chiamiamolo col mezzo, col trattore, costa 90 euro all'ora. 90 euro all'ora. E alla fine quale è il risultato? Che la schifezza rimane. E io pago! Siamo appunto sulla spiaggia, sono le 9 e un quarto del mattino e abbiamo una signora che giustamente denuncia lo stato di degrado. Come si vive qui? La spiaggia è bellissima, il mare è pulitissimo, però c'è il degrado, si vede, è una cosa evidente. E' stata un po' abbandonata questa spiaggia, non è giusto, perché noi veniamo da fuori qui. Lei da dove viene, signora? Da Sava, da Sava. Quindi vi trovate la mattina tra i rifiuti? E certo, sì. Purtroppo è una cosa evidente, ripeto, cioè non lo dico solo io come bagnante, viene detta da tutta la spiaggia. Ed è peccato, diciamo, perché è una spiaggia meravigliosa. Signora, lei viene presto al mattino qui? Eh beh, le 8 e mezza, le 9 meno un quarto, quello è l'orario, non è che... E già a quell'ora trova la sporcizia? Certo, la trovi già dalla sera prima, perché qua la sera mangiano, fanno e buttano tutto. E puoi litigare un giorno, due, però poi... Ecco, però, il problema però è che ci sono certamente i cittadini sporcaccioni, però l'indomani la pulizia evidentemente non è sufficiente. Eh no, non è sufficiente, si vede. Sono cose evidenti, dico, non sono solo parole. Perché sembra, quando noi denunciamo queste cose, sembra quasi che ce le stiamo inventando. Non è un'invenzione, perché è una cosa reale. Una spiaggia meravigliosa, ma tanti rifiuti. Ci sono i cittadini che sporcano e vanno condannati, però l'amministrazione dovrebbe provvedere a pulire. Guardi, io non sono di Lizzano, è un paese vicinoro. E' normale che dovrebbero provvedere alla pulizia delle spiagge e delle ocae. Li viene da? Faggiano. E' un peccato che l'immagine di Lizzano... Sì, venga deturpata da questo. Noi lo ribadiamo, noi lo ribadiamo. Il cittadino sporca, però... Però ci dovrebbero essere dei contenitori dove il cittadino va a mettere le proprie immondizie, le proprie cose, i propri rifiuti. Oltre al fatto che andrebbe realizzata quotidianamente una pulizia radicale. La pulizia è non saltuariamente. Abbiamo percorso qualche chilometro, località Palmintieddu, cosiddetta. Guardate, da Messi, cosa sta qui? Guardate, una ruota e tutto, lo ripeto, il porcile. Questo è porcile. Non scandalizzatevi di questa... Qualcuno la definisce violenza verbale. Non è assolutamente violenza, è tutela del cittadino e del lizzanese. Il lizzanese paga le tasse per avere servizi, non per stare, lo ripeto, nel porcile. Guardate, da Messi. Messi sindaco. Messi vice sindaco. Messi. Doria, Morelli, io vi ho sfidato a un confronto televisivo, civile, garbato, per parlare di questi problemi. Voi vi siete tirati indietro, non avete risposto. Questi sono i risultati. Risultato nel senso che c'è il cittadino sporcaccione, ma c'è l'amministrazione che evidentemente non fa il suo come si deve. Guardate. Noi non diciamo chiacchiere. Mi diceva appunto un abitante del posto, un frequentatore del posto, che c'è una barca lì abbandonata da quanto? Anche da 20 giorni un mese sarà. E poi l'altro giorno anche noi abbiamo messo delle bottiglie fuori, mica l'hanno presa tutta questa strada qua. Niente. E poi ieri saranno portate. Però io dico, è assurdo, voi cittadini di Lizzano pagate le tasse e avete questa condizione di degrado. È giusto, è giusto. Vedete. E poi si vede, anche si vede. Non si può negare. Non è che stiamo parlando così. Si vede tutto là. Se poi sindaco, vice sindaco non vedete, vi posso prestare un po' gli occhiali. Vi adattate un po' alla mia gradazione e così avrete modo di vedere. E siamo scesi sull'arenile altri rifiuti che non vengono rimossi. Guardate qui, guardate qui, guardate qui, ci spostiamo di qualche metro e ci mancava nella collezione la bottiglia e carte cartacce perché il trattore passa. Ma se non ci sono i lavoratori socialmente utili che vanno a rimuovere i rifiuti come avveniva negli anni scorsi, noi non abbiamo risolto niente. Un momento, in questa zona ci sono alcuni volontari che con i loro mezzi e gratuitamente rendono un servizio alla collettività e si mettono a pulire la spiaggia. Parliamo di volontari. Vedete a che punto siamo arrivati. Proprio perché c'è il vuoto da parte dell'amministrazione in questi interventi. Bene, penso di aver detto tutto o quasi. Lo ripeto, nessuno si deve sentire offeso, ma anzi il cittadino lizzanese si deve sentire protetto, si deve sentire tutelato da questi servizi di denuncia. Perché al cittadino lizzanese è stato chiesto il voto, al cittadino lizzanese viene chiesto il pagamento delle tasse. Signor sindaco, signor vice sindaco, consiglieri di maggioranza, io queste cose ve le spiattello in faccia e li ripeterò alla nausea, fino alla nausea, fin quando non apporrete i rimedi necessari. Ma dubito che ci riuscirete. Sono alcuni mesi che vi siete insediati e davvero è buio pesto. Non c'è un minimo di luce in questa amministrazione. Povera Lizzano, poveri lizzanesi, non meritate questo. Meritate un'amministrazione migliore. Meritate un'amministrazione migliore.